oggi affrontiamo assieme il problema della comunicazione ecco vi voglio far leggere qui preso degli appunti la notizia che ci sono oggi ecco vi faccio capire come funziona la carta stampata la stessa notizia ha dato tre operazioni completamente diverse allora Corriere della Sera è roba di 5 minuti fa 10 minuti fa quindi veramente recente Corriere della Sera Bertolà su due punti tutta Italia virgola tranne la Sardegna virgola procede a lunghi passi verso la zona rossa il fatto quotidiano ecco quindi abbiamo letto il fatto quotidiano i contagi peggiorano pronti alle zone rosse avete visto come già cambia completamente l'italiano eliminato la frase tranne la Sardegna dato il plurale quindi cambiato anche i verbi i governatori cambiano tono preoccupati ecco quindi secondo loro uno dice che sono tutti preoccupati Repubblica Bertolà su due punti tutta Italia verso la zona rossa Piemonte pronto a chiudere le scuole Bonacene rischiamo di essere travolti ecco quindi avete visto come la stessa frase di Bertolà su che evidentemente quella di Corriere della Sera replica in maniera precisa tutta Italia virgola tranne la Sardegna virgola procede a lunghi passi verso la zona rossa quindi praticamente è stata data un'indicazione precisa cioè se non va qui le cose si mette male e quindi invece qua addirittura il fatto quotidiano come sappiamo allarmistico molto schierato a favore del Movimento 5 Stelle i contagi peggiorano quindi pronti alle zone rosse ovviamente perché perché 5 Stelle deve tutelare il suo elettorato che sono gli elettorati chi è l'elettorato del Movimento 5 Stelle i dipendenti pubblici i professori i ministeri non guardate quello che c'è qua vediamo quello che c'è giù no tutta gente che ha avuto il reddito di cittadinanza devono essere grati quindi attenzione zone rosse sì sì chiediamoci in casa tanto loro cosa rischiano cosa rischiano cioè alla fine tutta la la procedura diciamo di eliminazione della pandemia non sono i vaccini che lo Stato non ha fatto Bertolaso non è stato cioè ha messo in evidenza alcuni non è stato in grado di organizzare sono i bar i ristoranti i bar le palesse i teatri le piscine e tutti gli imprenditori che si adesso i collegati direttamente e indirettamente i commercianti quelli che vendono macchie tutto il sistema economico quello del commercio ha messo k o proprio a parte il cibo ovviamente quelli che i supermercati che comunque hanno aumentato il prezzo è giusto scarichiamo su di loro responsabilità quindi praticamente come se a casa vostra voi praticamente non portate i soldi a casa e battete vostra moglie e vostro marito perché ovviamente voi non portate i soldi a casa la colpa è di quello che sta di fronte ma cosa c'entra lo Stato caro Stato caro Conte Casalino Arcuri vi siete immaginati di fare questo teatrino questo potere immenso di fare i dpcm di di parlare alla gente e dire va adesso facciamo faremo potenza di fuoco sacrificate oggi che domani faremo saremo tutte prese in giro per non dire prese bene il culo in cui avete dimostrato semplicemente la vostra voglia di governare sottomettendo i cittadini sottomettendo le individualità facendoci considerare dei numeri ma noi italiani non siamo dei numeri questo può andare bene in uganda probabilmente in altri paesi con tutto il rispetto per questi paesi qua in nigeria in guatemala ma non in italia perché noi italiani siamo orgogliosi siamo creativi abbiamo la nostra individualità la nostra personalità e certo Conte Casalino un avvocato di professor professorino di università cioè Casalino ha preso una grande fratella ma secondo voi dovevano come potevano durare a lungo in questa situazione qui ecco queste sono le conseguenze vuoi ricordatevi che Casalino è andato avanti per mesi e mesi a non dico manipolare però assaggiamente utilizzare le virgole gli avverbi e i verbi sintassi grammatica grammatica e sintassi proprio per far prendere alle persone cose diverse rispetto a quello che uno aveva detto e vi ho fatto l'esempio di queste qua che vi ho stampato sono online quindi si possono leggere proprio per farvi capire come una stessa informazione può essere usata a piacimento ma invece Conte non c'è riuscito Conte non c'è riuscito grazie al Movimento 5 Stelle non a Renzi che ha fatto scrupere il bumone ma grazie al Movimento 5 Stelle che per paura di incoerenza con la propria base per base ideologica ha preferito rinunciare alle proposte di Renzi quindi è caduto il Conte è caduto ma che cosa dobbiamo aspettarci da queste persone di sinistra a sinistra ricordiamoci la sinistra è quella che pensa che l'individuo non è un individuo a salvaguardare e a valorizzare ma è un individuo che fa parte di un contesto sociale più ampio in cui tutti remano dove se tu alzi la testa e dici ma io posso remare di più o sono valgo di più o secondo me potrei no tu sei appiattito tu devi essere appiattito e non devi contare nulla quello che conta è il popolo quello che conta è la massa quello che conta è la nazione italia che deve appartenere regione d'europa e quindi questo sono i risultati quali sono state le conseguenze di questo europeismo spinto convinto ricordiamoci lo shopping che hanno fatto i francesi in italia con con i nostri marchi questo servilismo nei confronti della francia quali sono state le conseguenze che a livello di vaccini non contiamo più una piff una pippa gente come nazioni come il marocco ci hanno superato nella vaccinazione della popolazione chi è il re il primo marocco il re per primo si è vaccinato avete visto conte vaccinato avete visto mattarella che si è vaccinato ha fatto vedere ha dato l'esempio no in italia non c'è un piano vaccini perché me lo chiedo ve lo chiedo e me lo chiedo un paese organizzato quinta potenza mondiale che organizza di tutto 3.300 pagine sono state fatte 33.000 pagine sono state fatte di nuovi dpcm regolamenti in questo anno 2020 e voi mi volete dire che non è stato capace organizzare un piano vaccinazione adeguato allora che cosa c'è sotto qual è la vera volontà è quello che abbiamo detto prima l'annullamento della persona l'annullamento della personalità ridurre